Domenica 26 febbraio, prima domenica di cuoresima, è il 57esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 308 al termine, il sole sorge del 6.55, tramonta le 17.53, la luna si leva alle 9.50, tramonta a mezzanotte 19. Spettacolo di gala al Teatro Apollo con la rappresentazione dei ciassetti e spassetti del Carneval de Venezia di Carlo Goldoni. Viene anche inaugurato un busto del grande comediografo veneziano mentre il capo comico Angelo Morlì tiene un arguto discorso in vernacolo comunicando che da quel momento il Teatro Apollo sarà chiamato Teatro Goldoni. Le previsioni per domani, cielo in prevarenza molto nuvoloso fino al pomeriggio, poi attenuazione della nuvolosità con schiarite a partire da nord, precipitazioni assenti salvo al più qualche fiocco di nevi in montagna, temperature, valori in diminuzione con clima ventoso e freddo per il periodo salvo le massime in contenuta ripresa sulle Dolomiti, 20 in quota deboli o moderati di direzione variabile. In pianura ancora è presenza di venti di bora moderati o tesi sulle zone interne fino a tesi o forti sulle zone costiere e sudorientali.